Ma sicuramente io sono riuscito a girare tanto, forse sono stato, forse non sono quasi sicuro che sono stato il pilota che ha girato di più tutti i giorni di test e ho girato tanto sull'acqua, tanto sulla pioggia, però anche c'erano delle giornate che la mattina pioveva, era bagnato, il pomeriggio era asciutto e al pomeriggio sono riuscito a fare delle simulazioni di gara, sono riuscito a fare tante cose usando quello momento che avevamo la pista asciutta e però sono riuscito anche a girare sull'acqua, a vedere com'è la sensazione della macchina sulla pista bagnata, quindi ho fatto un test molto completo in tutte le situazioni, sono abbastanza contento anche di come è andato ogni giornata. Cavallino Rampante ti chiede dove secondo te la F10 è migliorata dal punto di vista tecnico rispetto alla F60? Ma ho detto anche prima, nelle prime domande, ho detto che la F10 è una macchina con più downforce, che c'è più carico aerodinamico, è una macchina che abbiamo lavorato tantissimo con la benzina, abbiamo lavorato tanto con la Shell, il lavoro che abbiamo tra la Ferrari e la Shell durante tanti anni, questa volta ogni anno è sempre più importante, ma questa volta è ancora più importante perché abbiamo sempre gli stessi motori, il motore non può cambiare perché abbiamo il motore congelato, sono tutti i motori uguali durante gli ultimi tre anni, penso due anni, quindi il lavoro nella benzina per trovare più potenza, però anche il consumo migliore è stato sicuramente molto importante, abbiamo migliorato tanto su questa macchina F10, abbiamo migliorato tanto l'aerodinamica, il grip meccanico, il grip aerodinamico di questa macchina per avere sicuramente più pressione, una macchina più facile da guidare, con più grip, abbiamo lavorato sicuramente tantissimo nella parte della sospensione per trovare una macchina che funziona bene con questi tipi di gomme che sono arrivate dalla Bridgestone che adesso è più stretta l'anteriore, quindi è stato un lavoro sicuramente che abbiamo preso anche più tempo questa volta perché abbiamo dovuto smettere di lavorare nella macchina 2009 più presto del previsto per iniziare il lavoro su questa macchina F10, quindi è una macchina sicuramente più competitiva e più facile da guidare e spero che sia veramente competitiva nel senso di che possiamo essere lì da subito a lottare per le vittorie. Nicola Due ti fa una domanda particolare e ti chiede se tu questi test guardando negli occhi i meccanici, i tuoi tecnici, hai notato qualcosa di speciale, l'unità, la voglia di vincere. Ma io sono in Ferrari da un po' di tempo, ho sempre visto e accompagnato durante ogni anno la voglia, la grinta, la voglia di lavorare, la voglia di sempre dare un passo avanti, però è vero che dopo un anno difficile, dopo un anno molto difficile che abbiamo avuto in 2009 con tante cose che è successo durante quest'anno, sento forse di più, sento ancora più voglia, ancora più motivazione, ancora più lavoro. La gente che esce dalla fabbrica alle 11 di notte perché sono lì e vogliono spingere ogni giorno per trovare più pezzi nuovi dell'aerodinamica, per trovare delle condizioni diverse nella parte meccanica e questo è sicuramente importante. Quindi questo mi fa veramente piacere e non solo piacere di vedere questo, ma mi dà ancora sicuramente la voglia di spingere di più, di essere presenti a tutto quello che succede dentro della fabbrica. Non poteva mancare una domanda su Michael da parte di Adolfo che ti chiede la tua emozione nel ritrovare Michael in pista anche se con una macchina che non è la Ferrari. Sicuramente Michael è una persona molto importante in Ferrari, quello che lui ha fatto è molto bello, la carriera che lui ha fatto con la Ferrari è sicuramente bellissima, è un ricordo con lui, la Ferrari ha un ricordo molto molto forte, molto bello. È molto strano vedere lui guidare una macchina con un altro colore, sicuramente con il casco rosso, una macchina grigia, non è la stessa cosa, è sicuramente molto strano anche per uno che sono molto vicino a lui, sono un suo amico e è sicuramente dall'inizio molto strano a vedere questo, però è anche bello vedere che lui vuole ritornare a correre dopo 41 anni, è anche bello vedere che lui fa vedere quanto è importante le gare per i piloti e lui ha fatto vedere che quando era a casa in questi tre anni mancava qualcosa di importante che era correre e quindi sono contento di vedere lui ancora per lo sport, ancora correre, però veramente fa, è strano vedere lui, una macchina di un altro colore. La team wants to know if the new regulation without refueling will make the race more interesting for the spectators? Well, I think it's a difficult question, so I hope it will be better, you know, to the drivers, to the tifosi, to the people watching the race in the track, but to the people watching the race in the television. I really hope that this regulation can be even more interesting to the competition, you know, but I mean, I think it's a little bit early to say we need to wait the beginning of the season, the first race and then we have a better idea. One more personal question from Max Damage, you would like to know how does it feel to be a father and what changes in your life you had and if you think that the fatherhood makes you a quicker driver? Well, I think it's just a fantastic feeling, you know, to be a father, you know, to see your son, to see so many things which he, you know, is like you, is like your, his mom. It's really, really an incredible feeling, you know, that I think everybody deserves to be, to be father, you know, to have a family. I think it, you know, gives you even more motivation to work harder, you know, because, you know, you have somebody in your house, you have somebody behind you that needs you, you know, so I think it gives you a lot more motivation, gives a lot, a lot more power to work and, and I hope give me...